Scuola, sciolti gli ultimi dubbi, partenza confermata, Palazzo Vitale, Tome e Pallante presentano le misure adottate per garantire la ripresa delle elezioni in sicurezza. Nessun rinvio si comincia il 14 settembre. Per Tenza Gam torna alla protesta, domani mattina nuova manifestazione davanti alla giunta regionale dei lavoratori della filiera avicola fermi ormai da anni, si mobilita anche la Caritas che scrive al ministro del lavoro. Torella, nessuna traccia dell'anziana scomparsa, terzo giorno di ricerche ancora senza esito nelle campagne del paese, l'anziana svanita nel nulla lunedì mattina, l'appello della figlia, chi l'ha vista ci contatti. Maledetti cantautori chiude il Summer Festival, successo per la serata finale a Parco del quartiere San Giovanni, sul palco il collettivo di musicisti con Daniro e Cristiano Godano che hanno raccontato le vite delle leggende del rock. Nuovo allenatore all'Olimpia agnonese, Stefano Senigagliesi e il mister dei Granata. Lo scorso anno sulla panchina della San Giustese la società si appresta ora a nominare direttore sportivo e presidente. Buongiorno dalla redazione di Telemolisi, parliamo di scuola in apertura perché stamattina i vertici della regione hanno presentato le misure adottate per garantire un ritorno tra i banchi in sicurezza. A Palazzo Vitale c'è stata una conferenza stampa del presidente Tome e dell'assessore ai trasporti pallante. Non ci sarà nessun rinvio, lezioni al via come previsto il 14 settembre. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Ieri sono partiti i corsi di recupero, tra due settimane l'avvio ufficiale del nuovo anno scolastico. Il Molise, come la maggior parte delle regioni italiane, si prepara alla riapertura del 14 settembre. Il mondo della scuola dovrà fare i conti con l'emergenza coronavirus e con le prescrizioni previste per una riapertura in sicurezza. La regione ha lavoro per fare in modo che alunni, personale docente e ATA possano tornare in classe e riprendere le attività didattiche interrotte bruscamente e inaspettatamente a marzo. Il presidente Tome e l'assessore ai trasporti pallante hanno convocato i giornalisti per fare il punto della situazione. Intanto c'è il capitolo finanziamenti. La regione ha un tesoretto da 8 milioni di euro per rispondere alle esigenze dei comuni che nel frattempo hanno concluso una ricognizione sul fabbisogno. Acquisita la notizia che 25 milioni di euro le avrebbe messi il governo, che 150 milioni di euro le avrebbe stanziate in finanziare il governo, a quel punto lì voglio non andare in sovrapposizione ma in complementarietà, così l'intervento tra governativo e regionale sarà il più ampio possibile. Il Molise, diversamente da altre regioni, ha deciso di aprire dunque il 14 settembre. Noi siamo 300 mila anime, la Campania supera i 4 milioni, la Puglia supera i 4 milioni, l'Abruzzo supera il milione e 2. Chiaramente noi abbiamo minori difficoltà perché abbiamo minori plessi scolastici, minori scuole, abbiamo la possibilità di organizzare la sorveglianza sanitaria con un'unica ASL che ci comporta una capacità organizzativa forse non migliore ma più rapida. Ogni regione ha le proprie peculiarità e quindi non tutte le date sono buone per tutte le regioni. Presidente, a proposito delle scuole, ma sono tutte quante pronte in grado di aprire il 14? Quindi parliamo di distanziamento, banchi monoposto e tutto il resto. La dirigente scolastica regionale mi ha assicurato che la scuola è pronta. La prima cosa da fare, la primissima cosa, è misurarsi la temperatura a casa. Se la temperatura non supera i 37,5 potranno uscire di casa. La seconda cosa è capire bene come comportarsi quando si prende il pullman. Quindi mascherina obbligatoria. Non muoversi sul pullman, non fare sciocchezze nel cambiare posto e nello scherzare con gli amici perché può diventare, se c'è un contagio, può diventare anche fatale. L'altra cosa importante è seguire le regole che saranno ben visibili all'ingresso. In salita si dovrà entrare per un unico accesso. In discesa si dovrà scendere per un unico accesso. Quindi quando si sale e quando si scende non formare assembramenti. Pure gli assembramenti sono deleteri. Cercare per quanto possibile, anzi cercare sempre di mantenere la distanza di almeno un metro. In classe potranno abbassare la mascherina se sono seduti al banco e se c'è quindi tra i banchi distanziamento di almeno un metro. Il distanziamento dalla cattedra deve essere di almeno due metri. Quando dovranno andare al bagno o alla lavagna metteranno la mascherina. Quando avranno finito quest'operazione e si sederanno toglieranno la mascherina. Io sono sicuro che i nostri ragazzi non ci faranno preoccupare di tanto. Assessore allora per quanto riguarda la situazione dei trasporti sembra che sia abbastanza sotto controllo. È stata risolutiva intanto la norma che è stata accettata proposta da Regioni con un'utilizzazione dell'80%. Questo ha risolto una parte dei problemi che evidentemente prima non si riuscivano a risolvere. Abbiamo iniziato la ricognizione. Entro oggi avremo l'esatto numero delle corse da duplicare per le cosiddette corse bis. Abbiamo chiesto ai concessionari qual è la loro disponibilità. Potremo usufruire dei bus NCC. Quindi io credo che per il 14 da questo punto di vista dovremo essere pronti. Stiamo anche lavorando all'ipotesi di utilizzazione della biglietteria online. Per la quale sono aperte due opzioni. O quella di un incentivo all'utilizzo o di disincentivo a chi vorrà utilizzare ancora il sistema tradizionale della biglietteria non online. Intanto è già caos per le graduatorie dei docenti compilate per la prima volta online e definite un vanto dalla ministra dell'istruzione Azzolina. Sono un contenitore di errori e strafalcioni assegnati 15 anni di sostegno a docenti che non hanno mai lavorato con i disabili. Cattedre di francese a chi non conosce la lingua, punteggi negativi e altre incongruenze madornali. La scuola sarà pervasa da ricorsi alla magistratura e di contenziosi che, denuncia la CISL, comprometteranno non solo l'avvio dell'anno scolastico ma tutte le attività didattiche. I precari sono ancora una volta sottoposti alle angherie schizofreniche di una burocrazia ministeriale. Sono ancora le parole del sindacato che vuole apparire efficiente lasciando per strada diritti e procedure regolari che richiedono tempi adeguati vista la complessità degli atti e il volume dei richiedenti. Sempre sulla scuola, intanto il sindaco di Torella del Sagno, Tonino Lombardi, ha scritto alla ministra Azzolina spiegando che in Molise far indossare le mascherine ai bambini sugli scuolabus per un tempo non superiore a 15 minuti non è possibile. In un territorio come il nostro, ha spiegato il primo cittadino, per completare un percorso casa, scuola e viceversa ci vogliono oltre 30 minuti. Vorrà dire, ha concluso, che ogni 15 minuti faremo scendere i bambini per una sosta, li faremo risalire per conteggiare da capo altri 15 minuti. Chiediamo la pagina della scuola. C'è una notizia di cronaca che ci è appena arrivata in redazione perché c'è stato un grave incidente sulla strada tra Campobasso e Isernia, tra le cupolette e il bivio di Guardia Regia, dove secondo le prime informazioni si sarebbe ribaltato un camion. C'è una colonna di fumo ben visibile, anche a una distanza notevole sul posto, stanno lavorando i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine. Non conosciamo ancora altri dettagli su questa vicenda, una nostra truppo però si sta recando sul posto, quindi vi daremo informazioni e immagini, credo, nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso parliamo di lavoro perché domattina tornano a protestare i lavoratori della GAM, faranno un presidio alle 10 davanti alla giunta regionale con CGL, Cisle e Will. Chiedono interventi per la risoluzione dell'avvertenza, intanto si mobilita anche la Caritas nazionale, quella di Trivento, che si sono interessate alla vicenda scrivendo al ministro del lavoro e al governatore Toma accogliendo l'appello dei lavoratori. Ce ne parla Tonino Danese. Si sono riuniti in assemblea a Campobasso, lavoratori della GAM e rappresentanti di CGL, Cisle e Will hanno deciso di attivarsi con iniziative per una risoluzione immediata dell'annosa e drammatica avvertenza, chiedendo anche una task force alla regione. Il 4 novembre è vicino e manca poco alla scadenza della cassa integrazione. Poco meno di 300 persone si ritroverebbero, dopo anni di battaglie, promesse, incontri e prospettive di rilancio, con nulla in mano, nessun supporto al reddito. La retrocessione in sola agrita, l'hanno spiegato i lavoratori, significherebbe lettere di licenziamento. In molti hanno più di 50 anni e sarebbe difficile la ricollocazione, hanno famiglie. Domani, come annunciato dai sindacati, un centinaio di lavoratori della GAM saranno davanti alla giunta regionale in presidio l'ennesimo. I lavoratori della GAM nei giorni scorsi hanno scritto alla Caritas Nazionale, a Don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento, un appello accorato perché hanno detto vogliono rendersi utili, avere un impiego, benché provvisorio fare qualsiasi cosa per la collettività e il bene comune, pur di andare avanti fino alla pensione e non essere costretti a emigrare come i giovani, come i figli, per mancanza di lavoro e opportunità. Vogliono far giungere la loro voce oltre i confini regionali. A chi, hanno rimarcato, potrebbe ipotizzare soluzioni di lavoro di utilità sociale o qualsiasi formula per non essere abbandonati al proprio destino fra 60 giorni. E la Caritas di Trivento, con Don Alberto Conti, questo appello lo ha accolto, evidenziando in una lettera agli stessi lavoratori che chi ha il dovere istituzionale di intervenire finora non lo ha fatto con la prontezza e la visione che sarebbero state necessarie. Se nessuno avvertisse il pericolo reale, imminente, di un grande esoto anche di cinquantenni e sessantenni ha continuato, sarebbe la fine delle nostre speranze di creare le condizioni di un nuovo benessere per modesto che possa essere per la nostra terra. Concetto che ha espresso, come Caritas di Trivento, anche nella lettera inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e al Governatore Toma, chiedendo di intervenire con cuore e mente e con competenza e forza istituzionale. E al Ministro e al Governatore ha scritto anche il Direttore della Caritas Nazionale, Francesco Soddu, riportando l'appello dei lavoratori della GAM. Vi affidiamo anche questa situazione di sofferenza. È stato a sua volta l'appello di Soddu alle istituzioni, nella speranza che si riescano a ipotizzare soluzioni di lavoro di utilità sociale o qualsiasi formula che consenta di non abbandonare questi lavoratori e le loro famiglie. Adesso la cronaca, terzo giorno di ricerche, senza esito a Torella del Sannio, dell'anziana scomparsa a lunedì mattina. Maria Domenica Conte, 82 anni, la vedete in questa foto, si è allontanata da casa senza più fare ritorno. Una delle figlie della donna ha lanciato un appello. Se qualcuno ha visto nostra madre, contatti i carabinieri, ha detto, qualsiasi informazione può aiutarci. Anche oggi alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, carabinieri volontari e due elicotteri dei carabinieri forestali. Sono state battute, in particolare tutte le campagne attorno al paese. Giornata positiva, quella di ieri, sul fronte dell'emergenza coronavirus. In Molise, a fronte di un numero molto elevato di tamponi processati, sono stati ben 305, non si è registrato nessun nuovo caso positivo. Gli attualmente positivi in regione restano quindi 73. Sono invece 3 le persone ricoverate in ospedale. A proposito di ospedali, andiamo a Isernia. Settimana difficile a pronto soccorso e a ortopedia del Veneziale. Le carenze di personale accentuate dal periodo delle ferie stanno provocando non pochi problemi ai ricoverati, con continui trasferimenti al Caldarelli. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Allarme rosso per il reparto di ortopedia al Veneziale di Isernia, complici le assenze per ferie dal servizio di diversi operatori, tra medici e infermieri. I pazienti ortopedici sono in condizioni di emergenza urgenza, costretti da qualche giorno ad essere trasferiti a Campobasso per essere operati. Infatti, per otto giorni il servizio di ortopedia è coperto da un solo medico. Per essere precisi, la difficoltà di copertura dei turni riguarderà solo frazioni di giornata, ma nelle fasce orarie non coperte i pazienti che arrivano al pronto soccorso dovranno essere trasferiti a Campobasso. Al fine di evitare disagi, l'ASREM ha comunque invitato i direttori del pronto soccorso e della centrale del 118 a valutare, alla luce dei turni, la necessità di trasferire i pazienti urgenti presso altre strutture ospedaliere della Regione o anche di regioni limitrofe, ferme restando le condizioni cliniche di ognuno di loro. Insomma, una settimana di passione per i pazienti ortopedici che necessitano di intervento chirurgico. Ed è lo stesso primario del pronto soccorso, Lucio Pastore, che affonda il coltello nella piaga, affermando che dal 27 agosto nell'ospedale di Isernia non esiste più la continuità per assicurare la copertura dell'assistenza ortopedica. La presenza di un solo operatore non è prevista tutti i giorni, per cui può succedere che presentandosi con una frattura in ospedale bisognerà essere trasferiti. Non riesco a comprendere, afferma il dirigente medico, cosa potrà succedere in caso di politrauma, dove è necessaria anche la presenza di un ortopedico. Il pronto soccorso deve mantenere due postazioni, Isernia e Agnone, basandosi su attività aggiuntive del 118 o di colleghi che vengono da altri reparti. Una unità ha fatto domanda di pensione ed altre tre unità laureate da poco probabilmente abbandoneranno per iscriversi alle scuole di specializzazione. A quel punto il servizio si bloccherà, conclude Pastore, affermando che il personale è sotto stress da molti mesi e sarà sempre più difficile che in questo clima di disfacimento senza futuro altri medici accettino di lavorare nei nostri servizi. Nella tarda mattinata di ieri cinque giovani minori afghani ospitati alla comunità alloggio per minori Sant'Anna di Pesco Lanciano sono fuggiti attraverso una finestra. Le immediate ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare i minori nonostante avessero già percorso circa cinque chilometri a piedi. Sono stati poi riportati nella comunità. Carenza idrica, acquedotto molisano centrale, acqua alla Puglia, emergenza, incendi. Sono argomenti sui quali è intervenuto l'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca che chiede interventi urgenti e risolutivi. Inoltre invita a tenere alta la guardia sul fronte dell'acqua alla Puglia e dei mancati ristori alla regione. Vediamo. La carenza idrica nel periodo estivo rappresenta un problema in particolare in Basso Molise dove anche quest'anno ci sono stati forti disagi per la popolazione residente e per i turisti. L'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca si è occupato della materia quando era appunto in consiglio regionale e ha voluto fare alcune considerazioni in merito. Ogni anno le cose purtroppo stanno peggiorando perché le precipitazioni sono sempre in meno e il discorso del molisano centrale ormai opera incompiuta che che se ne dica doveva essere completato nel 2007 siamo al 2020 sono 13 anni e doveva servire per portare l'acqua disorgente nel Basso Molise. Non solo non la sta portando nel modo giusto ma sentire in questi giorni di carenza idrica che addirittura si pensa di collegarlo con il ramo sinistro quindi dell'acqua diciamo dell'area del Trigno dalla zona del Trigno è veramente una grossissima corbelleria perché l'acqua è sempre la stessa i problemi sono di due tipi il discorso di approvvigionamento dovrebbe aumentare e poi tutte le nostre reti dei comuni allo stesso modo quelle del Basso Molise ormai sono del colo a brodo cioè abbiamo una dispersione che va dal 50 al 65% Alla luce degli incendi degli ultimi giorni che hanno flagellato anche ampie zone in Molise Ciocca ha fatto notare degli aspetti importanti per quanto riguarda gli interventi in emergenza Nel momento in cui manca l'acqua potabile nelle case è chiaro che non ci sta la possibilità di approvvigionare acqua per spegnere gli incendi ma i comuni dovrebbero dotarsi e la protezione civile dovrebbe essere in questo senso coinvolta di alcuni depositi che dovrebbero essere specifici specie nei comuni tipo Campomarino che ogni anno è soggetto a decine e decine di piccoli incendi ma sentire che non c'è acqua per spegnere li mette a rischio l'incolumità delle persone ci sono delle serie di responsabilità anche dei sindaci Resta aperto il dibattito sull'acqua che dal Molise viene erogata alla Puglia con la conseguente questione dei mancati ristori una vicenda per la quale Ciocca si sta battendo in prima linea insieme ad altri cittadini del fortore e su cui non molla Innanzitutto va avanti l'acqua che scende a valle costantemente nonostante in questo periodo ce ne sarebbe bisogno anche per noi in Molise quindi innanzitutto sembra che ci sia un fermo anche da parte della nostra amministrazione regionale nessuno ne parla più voglio sperare che sia un po' colpo merito delle vacanze o delle elezioni in Puglia che a breve ci diranno se resterà Emiliano ci sarà un nuovo Presidente in ogni caso bisogna riprendere con forza questo discorso proprio in ragione di quello che ci siamo detti l'acqua diminuisce diminuisce sempre di più quindi dobbiamo cercare di usare meglio quello che c'è e di aumentarla ampliarla e soprattutto di usarla per il Molise in primis mi dispiace dirlo ma se non è ai fini potabili prima al Molise e poi agli altri e quantomeno quello che si dà deve avere un corrispettivo che al momento ci stanno negando da oltre 50 anni Ci sono ancora disagi a Isernia per la mancata riapertura dell'ufficio postale del centro storico per questo motivo Emilio Izzo raccogliendo la segnalazione dei cittadini ha annunciato una serie di azioni per sollecitare i vertici delle poste si continuano a colpire i cittadini di serie B e le fasce più deboli ha scritto sulla sua pagina Facebook a partire dagli anziani che hanno scelto di continuare a vivere nel centro storico ebbene la misura è colma ha concluso e così raccogliendo istanze appelli a richieste di aiuto daremo inizio ad una serie di proteste tese all'accoglimento delle sacrosante richieste dei cittadini andiamo adesso sulla costa c'è il cambio al vertice della capitaneria di Porto di Termoli dopo due anni Francesco Massaro lascia il Molise al suo posto arriva dalla Toscana Amedeo Nacarlo domani in comune la cerimonia con il passaggio delle consegne il servizio di Manuela Iorio cambio al vertice della capitaneria di Porto di Termoli dopo due anni il comandante Francesco Massaro lascia la città per un'importante destinazione il comando generale di Roma due anni intensi per lui e per la gestione dello scalo interessato anche finalmente dopo decenni dai lavori di dragaggio Comandante dopo due anni va via da Termoli che città ha trovato e che città lascia? è un ambiente sano diciamo a livello portuale ovviamente sicuramente ci sono state diverse difficoltà parecchie sono state superate parecchie ancora hanno necessità di essere investigate e risolte comunque è sicuramente una buona volontà nel portare avanti diverse situazioni abbiamo per esempio ristaurato una nuova ordinanza di viabilità portuale per dare una maggiore fluibilità alla viabilità appunto sono state fatte delle modifiche all'interno dell'area portuale e questo consentirà in maniera più snella di vivere l'ambito portuale Nei suoi due anni c'è stato anche il dragaggio del porto? Sì sicuramente è stato l'evento l'evento principale il dragaggio che ha consentito di riacquisire fondali per sei metri che comunque insomma è una cosa importante e va nell'ottica ovviamente dello sviluppo con l'approvazione del piano regolatore portuale avvenuto lo scorso anno sicuramente è una misura necessaria per poter completare lo sviluppo del porto Cosa porterà di Termoli nel cuore? Ma assolutamente sicuramente diciamo la giovialità delle persone che ho incontrato quindi sicuramente tante amicizie tanta insomma voglia di vivere da parte dei cittadini di Termoli Quindi tornerà a trovarci? Assolutamente sì da turista sicuramente ritornerò Al vertice della capitaneria di Termoli dal 5 settembre entrerà in servizio il capitano di fregata Medeona Carlo che arriva dalla capitaneria di Porto Ferraio in Toscana domani in comune a Termoli la cerimonia di passaggio di consegne che per l'emergenza covid resterà chiusa al pubblico Lei è qui già da qualche giorno che ambiente ha trovato? Ho trovato un ambiente vivace mi sono iniziato ad immedesimare a vivere in questa nuova realtà locale molisana devo dire che si tratta di un porto con una sua tradizione abbastanza consolidata e quindi l'impressione che ho avuto è certamente di una realtà dinamica da gestire con giusto senso di responsabilità e l'entusiasmo che porto in questo nuovo incarico Quali saranno le priorità? Sicuramente in generale la sicurezza della navigazione nel senso più ampio dell'accezione del termine quindi sicurezza anche portuale intesa sia come security che come safety e poi tutela dell'ambiente controllo della filiera ittica della risorsa ittica Che rapporti ci saranno con la marineria? Ma la marineria noi in fondo siamo al servizio della marineria quindi quello che il nostro obiettivo è quello di creare una collaborazione naturalmente nel rispetto della legalità E il nuovo questore di Isernia Luciano Soricelli ha incontrato invece oggi il presidente della provincia Alfredo Ricci ha illustrato al capo della questura le particolarità del territorio ha esposto le difficoltà in termini di sicurezza in cui si trovano a lavorare i 52 sindaci della provincia da parte di entrambi è stata espressa la volontà di lavorare in stretta collaborazione Restiamo a Isernia dove si è insediato il nuovo dirigente scolastico dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco Giuseppe Posillico garantirò una presenza costante in città ha detto insieme a genitori e docenti che invito a collaborare risolveremo ogni problema sentiamo Sergio di Vincenzo Giuseppe Posillico 39 anni già in servizio al centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Campobasso si è già rimboccato le maniche per affrontare di petto le problematiche dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Sernia in vista di un inizio danno scolastico che si annuncia complesso il neoreggente chiamato a gestire una scuola con oltre mille alunni deve già affrontare una priorità la carenza di aule ne mancano 12 per garantire la massima sicurezza nell'istituto ma il problema sicura è in via di risoluzione nell'immediato dovremmo affronteggiare la riapertura della scuola quindi dare da subito priorità a quelle che sono tutte le indicazioni che il ministero ci ha dato per riavviare in sicurezza l'anno scolastico di comune accordo con l'ente locale abbiamo da subito avviato tutte quante le comunicazioni necessarie affinché possiamo ripartire in sicurezza il 14 di settembre mancano delle aule come pensate di risolvere il problema dalle prime interlocuzioni l'amministrazione mi ha garantito che hanno trovato la soluzione adatta per poter sistemare gli alunni in ambienti che possono insomma accoglierli rispettando quelle che sono le linee guida del ministero la sua nomina è stata accompagnata da qualche perplessità c'è chi ha parlato di inesperienza data la giovaneità e chi invece ha detto che essendo reggente avendo già un altro impegno non potrà garantire una presenza costante ma posillico e fiducioso nel ringraziare la disanza per il lavoro svolto e l'ufficio scolastico regionale per la nomina il neodirigente ha precisato che confida molto nella collaborazione da parte dei docenti e dei genitori ci tengo a sottolineare una cosa eredito una scuola di assoluta qualità diretta in maniera impeccabile da chi mi ha preceduto tra l'altro anche mia tutor la dirigente di Sanza sono consapevole della complessità dell'istituto e quindi il mio è un incarico dirigenza pro forma insomma sulla carta ma sono ben consapevole che la presenza deve essere costante sul territorio per fronteggiare al meglio tutte quelle che saranno le difficoltà iniziali legate alla riapertura e poi per poter consolidare quanto di buono fatto negli anni dalla mia collega per quanto riguarda la giovanità nonostante i miei 39 anni sono al ventesimo anno nell'istituzione scolastica ho fatto ho svolto ruoli in istituti comprensivi di vicepresidenza per cui un po' di esperienza c'è all'interno della comunità educante la collaborazione è da parte di tutti quindi da parte mia ci sarà ascolto confronto quotidiano che sicuramente potrà essere fonte ed elementi di crescita per l'istituzione scolastica adesso la pagina degli spettacoli perché ieri sera a Campobasso si è chiuso il Campobasso Summer Festival sold out anche per l'evento finale lo spettacolo cantautori maledetti sul palco importanti musicisti che hanno fatto un viaggio attraverso le vite delle leggende del rock vediamo maledetti cantautori è stato ben più di un semplice concerto affascinando la platea con le sue atmosfere rare fatte sostenute da una trama letteraria o musicale costruita con cura da Nicholas è stato lui a portare il pubblico nelle vite di artisti che sono leggende Janis Joplin Leonard Cohen Johnny Cash Lou Reed Kurt Cobain l'incredibile voce di Davide Combusti De Niro e gli strumenti di Riccardo Tesio hanno fatto il resto legando con naturalezza tra loro storie umane diverse rendendole un unico grande romanzo musicale nella parte centrale dello spettacolo la presenza di sicuro più attesa dal pubblico quella del leader dei Marlene Kunz Cristiano Godano momenti di assoluta bellezza con le canzoni di Leonard Cohen e di Lou Reed Maledetti cantautori ha chiuso la prima edizione del fortunato Campobasso Summer Festival organizzato dall'amministrazione comunale anche la serata finale ha fatto registrare il sold out tanto che il vice sindaco assessore alla cultura Paola Felice ha già annunciato che il festival tornerà anche il prossimo anno molto grazie molto grazie Rosa Socci Rosa Socci è stata nominata tutore delle tradizioni folcloristiche di Campobasso la nomina è stata deliberata dalla giunta regionale Rosa Socci avrà il compito di promuovere eventi e attività che abbiano al centro la promozione della cultura e delle tradizioni del capoluogo la tutrice che vedete nella foto con il presidente Toma dovrà interfacciarsi direttamente con il governatore con l'assessore della cultura Cotugno adesso invece spazio alla nostra rubrica le parole della medicina a cura del dottore Italo Marinelli dirigente pediatra presso l'ospedale Alto Chiascio in Umbria oggi ci parlerà del ruolo dei bambini nella diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 vediamo buongiorno il tema che sta dominando la discussione pubblica è la riapertura delle scuole io oggi non voglio entrare nel merito ma semplicemente riportare quello che dice il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riguardo alla pandemia e dai minori sono dati relativi a circa dieci giorni fa che analizzano l'andamento epidemiologico in particolare il ruolo che hanno avuto i minori nel corso della pandemia solo sei nazioni hanno registrato focolai di infezioni nelle scuole molto limitati sia in numero e con pochissimi casi secondari c'è stato un solo vero e proprio cluster in una sola nazione di 13 casi 4 studenti e 9 adulti quindi diciamo la trasmissione nelle scuole è stata un'eccezione più che la norma d'altra parte però va ricordato che le scuole in larga parte erano chiuse un secondo punto che il centro europeo per il controllo della diffusione delle malattie sottolinea è che sotto i dieci anni il ruolo epidemiologico svolto dai bambini nella trasmissione delle infezioni è veramente limitato sia in termini di suscettibilità che di trasmissibilità della malattia le cose cambiano a partire dai dieci anni in su i bambini più grandi possono avere un ruolo più importante il terzo punto che l'agenzia sottolinea è questo sulla epidemia da SARS-CoV-2 ci sono pochissime certezze però una cosa è sicuramente certa che i bambini non sono stati i responsabili della trasmissione della pandemia e che d'altra parte i bambini soffrono soffriranno di un'eventuale chiusura o ritardi nell'apertura delle scuole non solo in termini educativi ma anche in termini proprio di rischi di salute e di maltrattamento rischiando di avere danni permanenti ecco questi sono i fatti abbiamo un'ultima notizia lunedì mattina si è smarrita una cagnolina di bulldog francese di nome Tokyo a circa tre mesi è scomparse incontrate Colle Longo zona fuci a Campobasso la vedete nella foto chiunque l'ha trovata o può fornire informazioni può mettersi in contatto come sempre con la nostra redazione e con questa notizia termina il nostro Tg delle 14 tra poco ci sono le provisioni del tempo poi le notizie sportive noi ci vediamo alle 15 per il Tg Flash del pomeriggio a più tardi buona giornata